Sulla Liguria a mio avviso non si è voluto cogliere il dato politico, il nodo politico. Non possiamo archiviare come ordinaria amministrazione il fatto che vengano annullati i voti in 13 seggi o che vi siano due seggi oggetto di indagine delle procure della Liguria. Non possiamo archiviare come ordinario, come una disponibilità di qualche uomo o donna di buona volontà del centrodestra la proposta che ha fatto la Paita, che ha fatto la ministra Pinotti di un'alleanza con il centrodestra di fuori di quello che è il mandato della direzione regionale del partito. Quindi rimane a mio avviso un problema politico molto serio che se non affrontiamo adeguatamente vi compromette il nostro rapporto con un pezzo di elettorato importante e quindi mette a rischio elezioni che invece potremmo vincere con tutte le condizioni per vincere.